buongiorno a tutti benvenuti alla rassegna stampa di oggi martedì 31 maggio 2022 siete sul canale 19 di fano tv questa è occhi giornali commento la stampa del giorno che comincia come di consueto con il santo del giorno oggi in realtà è una ricorrenza la chiesa cattolica celebra la visitazione della beata vergine maria il secondo mistero gaudioso quando maria dall'arcangelo gabriele apprende che la sua parente elisabetta concepito un figlio pur essendo in tarda età che cosa fa in fretta va verso percorre 150 chilometri a piedi o meglio con un ciuchino e se ne va appunto raggiunge la parente e poi lì c'è questo bellissimo incontro dove giovanni che la pancia il precursore di gesù sussultando saluta la madre di dio e allora andiamo a vedere il sole è sorto alle 5 29 tramonterà le 20 e 43 ma adesso andiamo a vedere il tempo per la giornata di oggi e lo facciamo con l'ausilio come sempre del sito della protezione civile delle marche ecco qua la prima immagine che ci indica come sarà il tempo per la giornata di oggi avremo un cielo poco nuvoloso con aumento della copertura nel pomeriggio nelle zone collenari e montani e un po di pioggia sul quindi il crinale appenninico invece un po di nuvolosità dunque un po di variabilità nel corso della giornata sulla costa le precipitazioni sono come dicevamo in collina in montagna vediamo la giornata di domani il primo di giugno come si apre questo mese di giugno con un po di velature un po di nuvole soprattutto in provincia di pese rubino e nella parte meridionale della regione un po di venti ma è la giornata di festa del 2 di giugno festa della repubblica che come vedete ci presenta una giornata completamente soleggiata su tutta la regione marche il tempo lo avremo stabile anche per tutto il resto della settimana allora come sempre abbiamo due quotidiani correa adriate con resto il carlino andiamo subito a vedere le prime pagine di pesero e urbino sono le due province che maggiormente teniamo sott'occhio per quanto riguarda la rassegna stampa anche se alcune notizie arrivano da ancona perché lì insiste ovviamente il consiglio regionale quindi vengono prese le decisioni politiche che riguardano la vita dei marchigiani e quindi inevitabilmente andremo anche là ma poi c'è anche la cronaca e la cronaca è l'apertura del carlino di oggi la fotonotizia l'edizione pesarese falciato dalla moto zappa un ex vigile del fuoco di 82 anni muore nel suo orto poi l'antenna le antenne che tanto fanno perdere il sonno ai residenti che vengono interessati da questi da queste installazioni un'antenna anche ai cappuccini siamo a pesero si apre un nuovo fronte il ripetitore verrà posizionato accanto alla chiesa intanto muraglia deposita la petizione per quanto riguarda invece la sanità la riforma dell'assessore saltamartini la regione moltiplica le aziende sanitarie ma cancella marche nord è una notizia che approfondiremo tra poco con il resto del carlino perché è interessante capire che cosa accadrà soprattutto per quanto riguarda la provincia di pesero e urbino che a detta di qualche esperto e anche dell'ex presidente luca ceriscioli l'ex presidente da regione marche con la cancellazione appunto di marche nord la provincia verrà non poco penalizzata le altre notizie sempre dalla prima pagina del resto del carlino i lavori al via centro sportivo a villa fastigi sono arrivate le ruspe poi la world cup lo sport nell'astronave cioè nel palazzetto chiamiamolo palazzetto insomma un palazzo sport mica da ridere quello di pesero ginnastica ritmica grandi numeri e oggi sbarcano le ucraine fondo o ucraine fondi regionali invece per i centri estivi sempre a pesero e scontro con il comune poi affano una tragedia nel bed and breakfast una donna trovata senza vita come sempre di taglio basso abbiamo lo sport con la vl partita aperta banchi aspetta il club dal budget alla conferma del coach e poi il fano il fano che è riuscito a evitare l'incubo della retrocessione quindi l'eccellenza casolla e il gol spettacolo lui dice ero sicuro di farlo la semi rovesciata che ha salvato il fano che dunque passerà inevitabilmente alla storia la storia locale del nostro sport il fano non dimentichiamo c'è la più di cento anni di storia è nato se non ricordo male nel milleno è stato fondato nel 1906 quindi insomma è una squadra che ha una storia prestigiosa andiamo a vedere invece adesso la prima pagina del corriere adriatico anche qui in primo in primo piano invece la questione delle antenne spuntano altre max antenne nella zona retrostante la stazione ferroviaria di pesero poi buche basta con le gincane il comune stanzia un milione duecentomila euro per le strade dissestate di centro mare periferia previsti oltre 150 giorni di lavori i tecnici hanno stabilito le priorità e le zone dove si interverrà poi c'è il caro gasolio che sta creando non pochi disservizi e soprattutto problemi di gestione economica in questo caso alle marinerie delle marche marinerie che sono in sciopero stop al pesce straniero vedremo tra poco leggeremo da questo articolo l'azione di protesta che è stata messa in campo qualche notte fa poi sempre da notizie in breve sempre dalla prima nidi estivi e bimbi esclusi non c'è nessun dietro fronta fanno cantiere navale wider taglia 10 metri di altezza cavalieri del lavoro nomina per rossi lardini e santoni poi ha restituito il portafogli il sindaco gli dica grazie l'appello del proprietario per il giovane farucche il suo gesto può essere un esempio per molti siamo sempre a pesero dove un portafogli contenente del denaro e dei documenti smarrito nel centro storico e l'appello su una popolarissima pagina social per ritrovarla ha portato i suoi buoni frutti questo portafogli è stato restituito un gesto generoso insomma che adesso naturalmente vorrebbe in qualche modo essere coronato con almeno un grazie da parte del del sindaco è quello che chiede il proprietario di questo di questo portafogli per il pesero film festival invece gran partenza con spilberg questa è l'altra notizia sempre dalla prima pagina del corriere adriatico adesso entriamo nelle pagine interne partiamo dalla cronaca andiamo subito a fano dove una donna è stata trovata morta in un bed and breakfast è successo a camminate si tratta di una sessantottenne che aveva soggiornato altre volte a fano nella sua camera sono stati rinvenuti alcuni farmaci l'articolo è di marco derrico che scrive trovata morta in una stanza di un bed and breakfast dove si trovava da qualche giorno si tratta di emanuela bovi 68 anni originaria di brescia senza fissa dimora ma molto legata a fano dove si giocava abitualmente è stata ritrovata cadavere domenica pomeriggio dal gestore dell'agriturismo la grotta nella frazione di camminate struttura per l'accoglienza turistica che oltre al nucleo principale conta anche alcune dependance dove per l'appunto si trovava la donna donna che era da sola quando probabilmente si è sentita male ammesso che abbia chiesto aiuto difficilmente qualcuno avrebbe sentita gli appartamenti vicini sono abitati da tecnici trasferisti trasfertisti cioè tecnici che vengono qui solo per lavoro che spesso sono fuori appunto per lavoro e forse la donna non ha fatto in tempo neppure a chiamare i soccorsi col cellulare stramazzando al suolo e mentre sotto sempre dalla pagina di fano del carlino vittime di violenza ora si denuncia anche fuori dal commissariato soroptomist dona un pc portatile per raccogliere le richieste di aiuto anche a domicilio oltre che nella stanza che si chiama stanza tutta per sé c'è un'altra notizia di cronaca un altro decesso questa volta a pesaro andiamo sul restiamo sul resto del carlino la pagina di pian del bruscolo muore nell'orto travolto dalla moto zappa eccola qui la vittima l'82enne arcangelo balduini ancora una morte per colpa di una moto zappa era già successo il 30 gennaio scorso scrive il giornale a candelare ieri ha perso la vita travolta da travolto dal suo mezzo che conduceva a mano un ex vigile del fuoco in pensione arcangelo balduini aveva 82 anni e la grande passione di lavorare l'orto lo faceva spesso con la sua moto zappa in un appezzamento di terreno in strada dei condotti in zona muraglia e allora andiamo sull'altra pagina invece a pagina 21 torniamo più verso sud da marotta muore 24 ore dopo aver ottenuto giustizia scrive questo articolo sandro franceschetti maria baioni classe 1942 deceduta per cause naturali fu raggirata per 500 mila euro dai suoi due badanti e si è spenta 24 ore praticamente dopo quel suo flebile sorriso indotto dalla notizia che le persone che l'avevano sfruttate maltrattata per anni erano state finalmente condannate e forse se il suo corpo minato dalla malattia ha resistito fino alla conclusione del processo è proprio perché il desiderio più grande rimasto era sapere di aver ottenuto giustizia e questa è la storia appunto di maria bagnoni che è mai baioni scusate che è morta appunto all'ospedale santa croce dove era stata ricoverata ormai da diversi giorni e sono queste le cose della vita si rimane aggrappati fino a quando con tutta verrebbe da dire la tigna per fino a quando poi non si decide di mollare e probabilmente la signora maria ha detto così adesso posso andare in pace e allora andiamo sulla pagina adesso dell'emilia romagna perché purtroppo della emilia romagna è marche perché c'è ancora la cronaca da registrare questa mattina la un carabiniere un carabiniere che si è ucciso sparandosi un colpo di pistola è successo affermo nelle marche questo è il quarto suicidio in un mese sono numeri terribili si tratta del sottotenente luciani che si è tolto la vita con la pistola d'ordinanza 24 ore prima era toccato al poliziotto servodio lo psichiatra mencacci dice chi chiede aiuto subisce limitazioni alla carriera bisogna fare in modo che ricevano sostegno in mano in maniera anonima questo è l'articolo di fabio castori sul carino di oggi un dramma ha scosso ieri la comunità di fermo in poche ore il mondo delle forze dell'ordine si è ritrovato a piangere un altro uomo che si è tolto la vita nel più tragico dei modi secondo in due giorni affermo il quarto in un mese nelle marche ieri mattina infatti nella sua habitazione il sottotenente dei carabinieri oscar luciani 55 anni si è tolto la vita con un colpo sparato dalla sua pistola d'ordinanza il militare atteso che la moglie si recassa al lavoro poi ha impugnato l'arma ha sparato al suo cane e poi se l'è puntata contro e nella fotografia che vedete in questa immagine intanto ecco questa è l'ultima vittima in ordine di tempo il carabiniere oscar luciani che si è appunto ucciso ieri ma poi ce n'è un altro sempre da fermo capo d'arco di fermo rocco servodio anche lui un poliziotto di 50 di 50 anni poi andrea fornaro un altro poliziotto che si è tolto la vita a 24 anni il 25 di maggio a dancone poi a pesero andrea giommi un altro carabiniere di 50 anni il 26 di aprile ma i numeri i dati sono veramente shock 29 suicidi tra le forze dell'ordine da inizio 2022 57 sono i casi appunto nel ancora in quest'anno e abbiamo appena aperto anzi stiamo chiudendo il quinto mese ce ne ancora ce ne sono ancora tanti di fronte e chissà intanto la sanità la sanità regionale come dicevamo c'è un disegno un progetto quello di cambiare un po la sanità marchigiana salta martini il l'assessore di riferimento che si occupa appunto della nostra salute attraverso le aziende marchigiane le aziende sparse nella varia provincia ha annunciato questo cambiamento intanto andiamo a leggere il titolo sanità ci guadagnano tutti tranne pesero l'articolo di benedetta jacomucci la riforma della regione cancella l'azienda ospedaliera assorbita dall'azienda sanitaria provinciale si chiamerà asp che include anche appunto il territorio il titolo l'attacco di quest'articolo certamente poi addirittura in eretto insomma non è rassicurante addio marche nord comincia così l'azienda dal primo gennaio 2023 sarà al massimo un ricordo una mera denominazione senza personalità giuridica senza la possibilità di gestire autonomamente le sue risorse senza un direttore che pure si moltiplicano passando da 4 a 7 ma non a pesero dove dopo il colpo di spugna dell'ospedale provinciale ora si perde anche l'azienda ospedaliera si passa dunque da un'unica gestione asur sia pure articolate in 5 aree vaste qui è l'area vasta 1 lo ricordiamo con si passa quindi da 5 aree vaste a 5 gestioni autonome peraltro tutte con proprie strutture rafforzate quindi con uffici tecnici e quant'altro ora nel caso di pesaro scrive sempre il giornale l'azienda ospedaliere perderà la personalità giuridica che verrà trasferita a una struttura più grande che appunto è denominata azienda sanitaria provinciale asp ognuna delle cinque aziende territoriali dice ancora salta martini sarà più vicino al territorio in grado di individuarne meglio le istanze godendo di completa autonomia non solo di autonomia ma anche di indirizzo di programmazione e di spesa ora difficile non leggere in tutto questo dopo la cancellazione del progetto sull'ospedale unico lo ricordiamo difficile non vedere un'altra penalizzazione per la provincia di pesero che è di fatto a questo punto l'unica in questa svolta epocale così l'ha definita salta martini però a perdere qualche cosa cosa dice luca ceriscioli ex governatore della regione marche innanzitutto dice ceriscioli la regione dovrà spiegare perché pesero unica nelle marche perde l'azienda ospedaliera seconda seconda cosa c'è un forte squilibrio dice ancora ceriscioli di posti letto e dunque di offerta sanitaria tra le province macerate e ascoli hanno 3,7 posti ogni mille abitanti ancora 5,4 marche nord più l'area vasta ne hanno 2,7 il numero assoluti sono 350 posti letto in meno come si giustificano ora chi sta vivendo purtroppo questa è la vita e quindi può capitare di dover ricorrere a far ricoverare una persona in ospedale ora ci sono situazioni veramente incredibili di persone costrette a casa a star male a casa perché pur di non essere parcheggiati al pronto soccorso restano appunto tra le mura domestiche perché in reparto non c'è posto è un dramma e qui si parla addirittura di altri posti in meno quando già gli ospedali reparti sono saturi andiamo a vedere adesso la pagina di fano il cantiere wider si abbasserà di 14 metri quindi rispetto al progetto di cui si era parlato non sarà alto 24 metri ma sarà di 14 metri Anna Marchetti in questo articolo spiega un po' come saranno le cose appunto nell'area del porto qui vedete questo rendering questa cosa computerizzata questa è la struttura che doveva essere alta originariamente 24 metri quindi pensate insomma una cosa molto impattante però adesso si abbasserà di 10 metri quindi una cosa un po' come era previsto nel piano regolatore generale e adesso questo cantiere prenderà probabilmente vita e anche con qualche modifica perché per esempio essendo più basso non si potranno costruire i maxi yacht della wider così come o wider non so come si come si legge in questo caso saranno costruiti questi maxi yacht quindi altrove mentre a fano si realizzeranno i catamarani così dice l'amministratore delegato dell'azienda fabio fraternale la nuova linea giovane che abbiamo progettato cioè quella dei catamarani da 92 piedi piedi ora in questo cantiere alto 14 metri comunque si potranno costruire imbarcazioni fino a 50 metri collaboreremo dice ancora fraternale con il comune di fano per adeguare il progetto e soprattutto risolvere anche i problemi della viabilità i lavori di costruzione partiranno dice a breve puntiamo sui catamarani abbiamo bisogno che il cantiere sia operativo da fine agosto intanto per quanto riguarda invece il dragaggio perché è un altro problema serio del del porto di fano ma non solo quello di fano il sindaco seri ha rilanciato l'idea dell'acquisto di una draga comune da parte dei cinque porti marchigiani è ipotizzato un dragaggio per il fine anno poi sempre dalla pagina di fano del carlino la notizia che nasce una nuova associazione si chiamerà o si chiama già unicità insieme il presidente è stefano chiappori e nel suo manifesto programmatico c'è l'idea di stare ovviamente accanto alle persone disabili e fragili insieme alle loro famiglie poi il primo progetto su cui si impegnerà questa nuova associazione sarà legato al lavoro allo sport e al divertimento restando sempre in tema di porti e di marinerie sul corio adriatico ovviamente questa mattina si parte si parla della protesta della protesta che c'è stata tra domenica e lunedì tra le 11 di notte le 4 del mattino una protesta che ha visto bloccati tre tir carichi di pesce proveniente dall'estero che sono stati bloccati dai pescatori marchigiani in presidio in via mattei nella zona zippa al porto di ancona erano presenti un centinaio di pescatori arrivati anche da civita nova marchi san benedetto del tronto e pescara e di fatto hanno impedito agli autotrasportatori stranieri di scaricare il pescato arrivato da fuori questo per alcune ore poi intorno alle 4 del mattino il presidio è stato di ieri mattina è stato sciolto e quindi è stato consentito lo scarico del pesce perché protestano qui intanto vedete la fotografia di spalla di acquaroli e carloni all'assemblea delle marinerie che c'è stata appunto ieri mattina ad ancona protestano perché perché servono misure nazionali per contrastare questo problema del caro gasolio il gasolio che costa tantissimo le barche le imbarcazioni ovviamente quando fanno rifornimenti non è come una macchina che ci mettono 20 30 euro di gasolio devono buttare dentro migliaia di euro qualcuno addirittura parla di 2000 euro ogni volta che escono fuori le cifre sono diventate proibitive quindi si cerca di trovare un tetto soprattutto al prezzo di questo gasolio i grassisti aderiscono allo sciopero e adesso insomma si cercherà di trovare una soluzione intanto restando sempre sulla costa c'è il problema adesso che riguarda invece i concessionari di spiaggia voi sapete che c'è questa faccenda della bolkestein che è terribile e che purtroppo però ha avuto anche ieri l'approvazione dal senato alla camera al scusate l'approvazione del senato quindi il testo adesso va alla camera nel frattempo i concessionari degli stabilimenti balneari sono sul piede di guerra perché si avvicina questa questa cosa della direttiva questa direttiva bolkestein quindi probabilmente molti dovranno lasciare gli stabilimenti verranno messi all'asta insomma un casotto però il problema adesso che prima di mollare l'osso qualcuno questi concessionari dicono ma chi ci rimborsa di tutto quello che abbiamo investito delle perdite eccetera eccetera allora di questo si parla con andrea maccarone sul corriere adriatico di oggi allora andiamo velocemente a vedere le altre pagine siamo sempre sul corriere adriatico tecnologie da codice rosso la stanza protetta protetta e mobile il soroptomist dona al commissariato di fano un videoregistratore per le raccogliere le testimonianze di violenza poi gli scolmatori invece sempre a fano non funzionano per via pisacane l'abbiamo visto qualche giorno fa è bastato mezz'ora è bastata mezz'ora di pioggia per mettere sott'acqua un po tutto quanto ecco in questo caso ovviamente con il nuovo scolmatore avrebbe non avrebbero dovuto esserci allagamenti invece l'udc dopo gli ultimi fatti segnala le promesse praticamente infondate anche il corriere adriatico si occupa con un articolo di massimo foghetti questa mattina del capannone del dello wider punto che ora si riduce sarà alto solo 14 metri invece di 24 il cantiere maggiore sorgerà a porto marghera marina dei ceseri fallita nulla cambia invece per i posti barca villa fastigi arrivano le ruspe via i lavori per la casa della vis la società di calcio aperto il cantiere che entro un anno dovrebbe dare al club bianco rosso e alla città una sorta di milanello locale palestre nuovi ambienti per la squadra oltre due campi da calcio e a tre paddle con bistro mentre sull'altra pagina della pagina 5 del resto del carlino chiesa dei cappuccini un'antenna anche qui è della società iliad che è già stata autorizzata si alza dunque la tensione pure nella zona mare per il potenziamento dei ripetitori sopra ad un hotel domani verranno depositate le mille firme in comune è stato chiesto anche l'accesso agli atti mentre dalle antenne alla fibra che fortunatamente passa sottoterra con gli scavi qui siamo a sant'angelo in vado e guardate qua c'è un pezzo di strada romana che è stata rinvenuta in centro a sant'angelo in vado proprio dopo gli scavi per posare la fibra ottica spunta una strada romana torna alla luce un tratto di uno dei cardini della città di tifernum metaurense è realizzato in soliti blocchi di pietra con la carreggiata delimitata da un marciapiede e quando vengono fuori queste cose così insomma tutto questo è davvero affascinante l'articolo di andrea angelini a urbino invece l'allarme cinghiali non è ancora rientrato urbino è ormai circondata io ho lasciato la rassegna stampa proprio guardavo stamattina è rimasto tutto così com'era a parte la polvere che è stata tolta era ferma il 14 di ottobre e più o meno siamo ancora lì allarme cinghiali non è cambiato niente dopo sette mesi quasi otto mesi urbino è ormai circondata quartieri praticamente invasi i branchi sono ora a mazzaferro lettera appello alla regione prendete coscienza della gravità assoluta della questione gli avvistamenti praticamente ora a rubino sono dappertutto e sono anche innumerevoli le segnalazioni fanno il giro ovviamente dei social poi oggi l'ultimo saluto a girelli il cordoglio di un'intera città oggi alle 15 sarà la chiesa che lui stesso aveva contribuito a progettare negli impianti ad accogliere il funerale alle tre del pomeriggio di rolando girelli quel santuario del sacro cuore di castaccolo di cui aveva curato la realizzazione impiantistica essendo lui un ingegnere termotecnico con la sua ditta tecnoscudi fino all'inaugurazione avvenuta lo scorso settembre ancora dai giornali di questa mattina restando a rubino il corriere dal patrono il via agli eventi città di gioco del gioco e di federico domani torna il mercato dei batanai nel fine settimana le celebrazioni invece per il duca stiamo parlando del tradizioni di san crescentino allora andiamo andiamo un attimo a questo punto a vedere perché sono le 7 26 andiamo di corsa andiamo intanto a vedere fanno salvezza meritata questo mi pare che sia giusto dare nelle pagine sportive risalto a questa meritata questa meritata vittoria poi per il fanno pianto invece di rabbia di gioia casolla racconta il gol con cui ha strappato la squadra dal baratro il baratro si chiama eccellenza sapevo che ce l'avrei fatta gesto di riscatto di un anno in salita poi c'è la ginnastica ritmica 32 nazioni in gara che numeri la world cup alla vitri frigo arena è stata presentata la manifestazione che andrà in scena venerdì e poi santi così l'urbino ha fatto il miracolo il dg dei ducali dopo l'impresa di urbani ha una vittoria di tutto il gruppo dal primo all'ultimo e ora vogliamo i tifosi allo stadio ma voglio chiudere con questa notizia che sempre dal dal resto del carlino la firma di davide eusebi meggiugorie ripartono i pellegrinaggi gli acucci dell'opera mariana dice dopo anni di sofferenza e dopo anni di pandemia e tre mesi di guerra siamo ripartiti per meggiugorie un luogo di pace di preghiera e di amore che tanti fanesi e non solo hanno abbracciato in passato e che stanno finalmente riabbracciando una liberazione quella annunciata da stefano iacucci stefano iacucci che lo ricordiamo faceva un tempo il promotore finanziario e il figlio di alberto iacucci storico esponente della democrazia cristiana che rinunciò praticamente al suo lavoro per abbracciare la missione di di meggiugorie accompagnato accompagnando anzi la i gruppi di preghiera praticamente ogni anno insomma dice lui sono due anni stati due anni di sofferenza per tutti ma ora registriamo la voglia di tanti di tanti fanesi e non solo anche di persone della nostra provincia che vogliono ripartire io non so riccardo che succede riccardo non riusciamo a farlo benissimo allora avrei voluto collegarmi appunto con stefano iacucci questa mattina per per chiedergli alcune cose appunto in chiusura della nostra rassegna stampa che perché tra poco andremo in onda per chi ci segue in diretta con la messa da loreto quindi avremo fatto una sorta di transizione da meggiugorie a a loreto ma comunque va bene questo per dirvi che comunque in questo articolo se avete voglia di andare a meggiugorie se sentite soprattutto di andare a meggiugorie per fare questa esperienza straordinaria che per esempio a me ha cambiato la vita nel 2013 ebbene qui ci sono le date qui ci sono i giorni previsti e c'è anche un contatto telefonico per poter aderire e quindi magari partire tra l'altro io dovevo essere oggi anzi no il primo in partenza domani in partenza ma poi ho deciso di rimanere quindi si resta qui in italia allora noi ci fermiamo qua la rassegna stampa è finita tra poco come dicevo la messa in diretta da loreto poi questa sera alle 20 e 30 il telegiornale occhio alla notizia grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti